Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata della nostra trasmissione che si dedica oggi in particolare alla scoperta di alcune situazioni editoriali che gravitano qui a nord-est molto interessanti. La prima delle quali è presentata da Giacomo Brunoro, che saluto qui dal buongiorno. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti. Bentornato con noi per una nuova iniziativa editoriale che parla di una brutta storia a nord-est, quella di Felice Maniera, della sua mafia del Brenta. Ecco, Giacomo, è un e-book che veramente ha avuto un grandissimo successo per il nostro pubblico, parliamo di libri che vengono venduti in formato digitale, che adesso si trasforma in un audiolibro. Esatto, l'e-book è stato pubblicato nel 2011 da una casa editrice californiana, la LA Case Books, è in italiano e ha avuto un enorme successo, probabilmente anche sulla scia della fiction tv che è uscita qualche anno dopo. E oggi abbiamo pubblicato, proprio in questi giorni, in tutto il mondo, la versione in audiolibro. Perché? Primo perché il caso non si è mai esaurito, le ultime dichiarazioni sul caso di Maniero, sui presunti coinvolgimenti dei servizi nella sua evasione da due palazzi. E perché appunto la storia della Maniera del Brenta è una storia che sembra sempre che nasconda qualcosa di nuovo. E poi perché invece che fare una semplice rivisitazione del testo, abbiamo deciso di fare proprio un prodotto nuovo, un audiolibro, si ascolta quindi facendo jogging, andando in bici, andando in macchina. Però questo ci ha permesso anche di creare atmosfere nuove, è stato registrato in Italia, ma poi prodotto e masterizzato negli Stati Uniti. E sono state inserite musiche, suoni, sound design particolare per renderlo anche avvincente, senza dimenticare comunque gli aspetti legati alla cronica. Allora ci hai fatto un cappello molto completo della situazione, il che dà anche un'idea di come nascono questi prodotti editoriali che stanno avendo un buon successo, perché sono dei libri che si ascoltano sostanzialmente, si possono ascoltare in formato file oppure su supporto di cd, insomma, a seconda di quello che uno può utilizzare, se lo ascolta in macchina, se lo ascolta in cuffia o come lo vuole utilizzare, però ovviamente la semplice lettura diventa un po' difficile. Ma diciamo che questa è un po' l'abitudine anche degli statunitensi. La casa editrice, appunto, come dicevo, è californiana, ha l'abitudine a spettacolarizzare, a rendere interessante qualsiasi contenuto. Ecco che quindi una semplice lettura monotona può annoiare. L'idea invece di creare quasi un film da ascoltare, quindi con effetti sonori, musiche dedicate, cambi di ritmo, permette anche di dare all'ascoltatore un qualcosa in più. Ricordiamo che stiamo sempre parlando in questo caso però di una storia vera. Una storia vera, che non è per niente un romanzo, ma purtroppo è una storia che ancora brucia. La difficoltà poi, da parte nostra, quando abbiamo costruito questa storia, è stato quello di dosare quello che poteva sembrare, tra virgolette, spettacolare e invece i lati di cronaca, perché non dimentichiamo, ne parlavamo poco fa fuori onda insieme a te, di quanto dolore ha lasciato poi la malla del Brenta e di quante cose ancora oggi non si sanno di quella vicenda. E quindi a volte si tende un po' a banalizzare, no? Perché Maniero aveva questa grande capacità di essere, io dico sempre, fotogenico. Un bel sorriso sembrava... Faccia d'angelo. Esatto, il nome lo dice, però poi noi abbiamo scritto che aveva un cuore di diavolo, cioè era veramente quella della malla del Brenta, una malla molto, molto... Per decidere la vita o la morte di alcuni dei suoi adepti, una carriera contrassegnata anche da una scia di morte, anche se avete sottolineato anche voi, prima nell'ebook e adesso in questa riduzione audio, che soprattutto appunto i colpi erano spettacolari, cioè l'esplosivo... Sì, questo lo ha dichiarato dello stesso maniero. Lui ha detto in diverse occasioni che era un grande appassionato di rapine, non tanto della violenza in sé, perché diceva, perlomeno, uccidere una persona è banale, è semplice, mentre organizzare una rapina è complicato, è un po' un'arte. E infatti sono rimaste storiche la sua rapina all'Hotel de Ben, la rapina all'aeroporto di Padova, dove sparirono miliardi e non fu sparato nemmeno un colpo, quindi all'epoca fecero molto scalpore. Poi è chiaro che maniero sottolinea questi aspetti perché passano in secondo piano purtroppo tutti gli altri... Certo, anche perché la frase che hai detto, che hai riportato, uccidere una persona è facile. Sì, già fa capire di che persona stiamo parlando. Per fortuna per la gran parte delle persone invece forse sarebbe più semplice organizzare una rapina o anche nessuna delle due cose in alternativa. Giacomo, volevo chiederti questo. Avete, sia nell'ebook che adesso in questa riduzione, voluto anche rappresentare un po' l'ambiente in cui si svolgeva tutto questo. Sì, perché rispetto alle altre storie criminali che siamo stati abituati a leggere, a vedere nei giornali, al cinema, questa è una storia veramente molto particolare, figlia di una regione che era molto contadina all'epoca e che ha visto il boom esplodere, provocando noi a volte, diciamo, lo abbiamo scritto anche, la mala del Brent è stata il vero miracolo economico del nord-est. Cioè questi ragazzotti si sono trovati in mezzo a un sistema che stava esplodendo e si sono inseriti proprio tra le pieghe di questo sistema. Non dimentichiamo che in quegli anni a Vicenza si lavorava il 25% dell'oro a livello mondiale. L'enorme boom tra gli anni 70-80 della nostra regione è ancora oggi un caso di studio a livello mondiale. E questi ragazzi piuttosto semplici, noi abbiamo scritto, hanno preferito la pistola al badile. Cioè si sono trovati in un mare di ricchezza, dal casino di Venezia a poi il casino in Croazia, all'epoca c'era la Jugoslavia, a tutti i loschi traffici che poi facevano con le altre mafie. Attenzione perché la mala del Brenta dialogava un po' con tutti. Questo è stato il motivo per cui è stata definita mafia quando è arrivata al giudizio della magistratura, questa capacità di collegarsi con altri gruppi criminali organizzati, comprese le mafie vere del sud e dell'estero. Poi la particolarità, tra l'altro incredibile, noi sentiamo tanto parlare della trattativa stato-mafia, però la mala del Brenta trattò apertamente con le forze dell'ordine per l'istituzione prima della lingua del santo, poi delle opere rubate alla Pinacoteca di Modena, quindi ci sono delle sentenze che parlano di una vera e propria trattativa per ottenere vantaggi per le persone in carcere, quindi a volte si banalizza, si dice c'erano quattro ragazzotti, piano, quattro ragazzotti che hanno costruito un vero e proprio impero criminale. Assolutamente. Ecco, questo e-book nasce dalla consapevolezza, come hai detto, che c'è sempre qualcosa da raccontare. Cosa dà in più rispetto, questo è l'audiolibro, cosa dà in più rispetto all'e-book? Beh, abbiamo lavorato sui casi di cronaca degli ultimi quattro anni, partendo proprio dalle dichiarazioni secondo cui appunto l'evasione di Maniero dal carcere a due palazzi di Padova sarebbe stata in qualche modo favorita dai servizi segreti, una delle ultime dichiarazioni, e anche dal fatto che poi il pentimento, tra virgolette, di Maniero resta ancora misterioso, perché ci sono molte ombre dietro a questo suo pentimento, non dimentichiamo che Maniero oggi è una persona libera a tutti gli effetti, nonostante ne abbia combinate di cotte e di crude, tant'è che molti hanno ipotizzato che il suo pentimento sia stato proprio una volontà di sistemare le cose per potersi guadagnare poi una libertà tutto sommato facile. Cioè si sarà un seguito anche dell'e-book quindi? Ma vediamo, vediamo cosa succederà agli sviluppi giudiziari, perché poi questa, come dici sottolineavi tu prima, non è fiction, ma è comunque una cronaca, quindi parte da fatti concreti, e io sono sicuro che nei prossimi anni verranno fuori ancora rivelazioni su questo fatto, su questa vicenda che è molto più complessa di quanto poi si sia fatto credere, anche magari per un'attitudine nostra, Veneta, di cercare di calmare un po' le acque, di non sovresporsi, di non parlare troppo di certe cose. No, beh, io penso che sia necessario parlarne a lungo, purtroppo noi giornalisti abbiamo raccontato quella che è stata un po' la cronaca della faccenda, poi forse è vero che finito il processo è calata un po' l'attenzione anche dei giornalisti, mentre è entrata un po' l'attenzione del cinema, è entrata l'attenzione appunto per l'interesse, per i lati oscuri di questa vicenda, e quello forse è un lavoro di approfondimento che toccherà anche agli storici e ai criminologi sviscerare. E la voce di Nino Carollo, salutiamo, nostro amico, speaker storico della radiofonia Veneta, perché ci serviva comunque un autore capace anche di interpretare, non soltanto di leggere, se no venia fuori un documentario, perché fosse un po' Veneto anche forse. Esatto, indispensabile per poter restituire anche soltanto i soprannomi, il cotoea, sauna, i tosi, cioè tutte queste, il gergo dialettale che poi se non viene pronunciato uno dei limiti, ad esempio della fiction che è stata fatta peraltro molto bella, a volte era proprio quello che si sentiva che la parlata non era Veneta, nel senso è difficile ricostruire un accento, e quindi per alcune cose abbiamo deciso di puntare proprio su Nino, perché era importante che ci fosse adesione con quel mondo, perlomeno l'essicale. Quanto dura questo audiolibro? Un'ora e un quarto, quindi è un ascolto veloce. Quindi è anche una riduzione del testo molto impegnativa, perché ci vuole quasi la sintesi di un giornalista. Diciamo che nell'audiolibro a volte è più facile, perché se io nel libro devo sottolineare, faccio un esempio, lui urlò e poi scrive la frase, nell'audiolibro senti una persona che urla e quindi non hai bisogno. Lo sparo, non devo scrivere spararono due colpi, li faccio sentire, e quindi costruiscono proprio un universo sonoro che supporta la voce dello speaker. Dove si trova? Si trova in esclusiva su iTunes Store di Apple, quindi su tutti i dispositivi, dagli smartphone ai computer, perché poi la rivoluzione digitale è stata data proprio dai supporti fisici che ti permettono di ascoltare dove vuoi i tuoi file. Capiamo un attimo argomento, anche perché qui il tempo stringe e dobbiamo parlare di più cose. Stai già lavorando ad un nuovo progetto, si chiama Croniche, porta a parlare del romanzo storico, quindi rimaniamo sempre in un ambito di realtà. Sì, passiamo a Piove di Sacco, perché l'amministrazione di Piove di Sacco ha creduto moltissimo in questo progetto sviluppato dall'associazione Sugar Pulp, con cui organizziamo già un festival al letterario internazionale a Padova, di portare a Piove di Sacco per la prima volta in Italia il primo festival internazionale del romanzo storico. Un genere attualissimo, perché da Umberto Eco alle Fiction TV ormai il romanzo storico è diventato uno dei generi più amati. Avremo ospiti internazionali come Jason Goodwin, il grande scrittore inglese, ma anche Valerio Massimo Monfredi, Roberto Giacobbo, Molesini, il padovano Struckel, Sarasso, Iwu Ming, Pennacchi, che farà uno spettacolo. Però, una bella rassegna. Sì, poi c'è la prima edizione. La prima edizione, quindi c'è anche per noi un po' di tensione, un po' il brivido dell'esordio. Noi siamo qui, curiamo la pagina del nord-est, siamo sempre un po' invidiosi dal Veneto di quello che fa il fruglio di Venezia Giulia, che sono bravissimi. Ma lì hanno anche un po' di aiuti. Vabbè, insomma, però, chi lo sa, da qualche parte bisogna pure iniziare. Mi sembra che voi partiate con un piede... Sì, l'idea è far diventare Piove di Sacco, ma tutta la Saccisica, che è una terra piena di storia, piena di anche bellezze proprio storiche, come un po' tutto il Veneto. Il punto di riferimento a livello nazionale e internazionale è del romanzo storico. Ci proviamo quest'anno. Oltre ai libri ci saranno gli spettacoli teatrali, rievocazioni storiche, cene a tema. Quindi un vero evento a 360 gradi dal 16 al 19 aprile, quindi quattro giorni. Tutti i periodi storici quindi sono rappresentati o avete fatto una scelta, diciamo, anche c'è un filo che tiene all'interno della manifestazione? Questa prima narrazione è aperta proprio alla contaminazione del genere storico. Quindi sia che sia il romanzo storico thriller, penso alla ballata, scusa, alla giostra di fiori spezzati di Matteo Struckel, che racconta di un serial killer nella Padova dell'Ottocento, o ai grandi romanzi di Massimo Manfredi, che racconta l'epopea antica, Giacobbo, che ha appena pubblicato un romanzo sull'Egitto, ma lo stesso Molesini, lo stesso Sarasso, che ora uscirà e verrà presentato in anteprima proprio da noi con la storia di Enea, rivista in chiave attuale. Quindi un viaggio attraverso la fiction e la storia, che è un po' la novità che mancava nel panorama italiano. Assolutamente, quindi scommettete sul fatto che questo sia un argomento di grande interesse in questo territorio? Assolutamente sì, perché la narrativa storica piace, vende tanto, a noi piace fare comunque cose che poi parlino alla gente, perché poi non dimentichiamo che quando parliamo di romanzo storico parliamo di Salgari, ad esempio, parliamo di Umberto Eco, Il nome della Rosa, parliamo quindi di grande cultura, sia popolare, ma anche alta. Qualcosa per il centenario c'è? Per il centenario non abbiamo previsto ancora nulla. Si può sempre rimediare da qui ad aprile. Grazie a Giacomo Brunoro di essere stato con noi questa mattina. Abbiamo, come detto, una mattinata un po' alla ricerca anche di iniziative editoriali nel nostro territorio e tra pochissimo una che farà un po' discutere, perché il titolo è Maschio svegliati e parla di uomini e di donne. Ci vediamo tra poco.